Questo obiettivo è stato tempo, fatica, passione e sacrifici per molti di noi, per tutto il club che io presiedo, che siamo più di 30 persone. Quindi io vi chiedo di essere presenti in piazza perché partecipando alla manifestazione aiutate direttamente anche le singole associazioni che si occupano e si prendono cura delle fasce più deboli della società. Noi siamo convinti che si debba parlare alla coscienza degli uomini e quindi che devono prevalere valori quali l'amicizia, quali il rispetto degli altri, la tolleranza e soprattutto è importante fare relazione. Noi con questa manifestazione, con quello che abbiamo fatto finora e con le prossime, vogliamo solo che la città di Sesto sia la città più a dimensione d'uomo e soprattutto che le persone riescano a relazionarsi tra di loro e forse a rispettarsi un po' di più, aiutando anche chi fa del bene e chi dedica il proprio tempo agli altri a favore delle fasce più bisognose. Grazie e vi aspetto domani. Tutti in massa in piazza Tetazzi, dalle ore 14.30. Grazie.